Chi è nel settore degli impianti domestici come me ha la fiera del settore e a dire il vero le fiere dedicate agli impianti sono due la prima è la più frequentata e la più famosa quella esclusivamente dedicata agli operatori del settore dove tutte le aziende fanno a gara ad avere lo stand più grande ed importante per marcare il proprio territorio magari assicurandosi di offrire birra e panini ai propri seguaci che di riflesso continueranno ad essere fedeli a quella marca o a quel prodotto a quella fiera lì in realtà è come la fiera del bestiame dove tutti in massa sfilano davanti alle vetrine delle aziende ammirando prodotti che magari esteticamente sono accattivanti e lucenti o poi sul campo lasciano desiderare e noi questo fenomeno quando parliamo di pompe di calore di termopompe professionali lo conosciamo molto bene ma a Bolzano l'aria che si respira è diversa qui si pare di abitazioni del futuro e non si scherza mica non è solo una mostra di prodotti come la fiera cugina di Milano qui fanno tutti sul serio si passa dagli stand oramai commerciali di casa clima ai più rigidi e severi passi vaus dove l'attenzione alla progettazione prima e dalla realizzazione dopo è tre volte più elevata qui in buona sostanza è dove anno dopo anno vengo a capire come si evolvono le soluzioni climatiche che tu stesso devi applicare nella tua nuova costruzione o nella tua ristrutturazione per vivere sempre al meglio all'interno della tua casa spendendo meno qui se parla con una persona e gli racconto che crea una casa che si può arrivare a vivere senza bollette riceve un sacco di domande e alla fine lascia un sorriso sulla faccia delle persone perché capiscono che quello che dico e trasmetto è frutto di passione e conoscenza non è un coppia in colla fatto male di qualche messaggio strampalato trovato in rete qui in questa fiera del sapore più tedesco che italiano l'evoluzione di tutti i sistemi che compongono il mio tanto amato impianto domestico spicca le stelle qui è dove spesso e volentieri nascono confronti tra tecnici che poi mi aiutano a trasmetterti le informazioni che ti servono per ottenere il massimo dei tuoi impianti domestici ottimizzando il budget senza accettare compromessi ma se vuoi già saperne di più a te basta cliccare il link che trovi nella descrizione del video ed entrare in contatto con me per oggi è tutto un saluto alla prossima